Salve ragazzi e bentornati alla carriera allenatore Allora ragazzi quest'oggi concluderemo già subito il mese di ottobre affrontando le ultime tre partite contro Haiduk Spalato, Udinese e Venezia Teoricamente tre partite che potrebbero essere fattibili e vediamo un po' che cosa succederà Ma come al solito ragazzi prima di incominciare a giocare vi invito a lasciare un mi piace, iscrivervi al canale per essere sempre aggiornati e per continuare a supportarmi E anche a commentare qualsiasi vostro dubbio o consiglio per prestità e a seguirmi sulla pagina Instagram, il link del profilo è in descrizione E anche a supportare e sostenere il canale tramite una donazione grazie al link che si trova in descrizione Detto ciò ragazzi direi di scendere subito in campo contro Haiduk Sarebbe fondamentale vincere pure questa in modo da portarci a 9 punti e quindi sempre più vicino alla qualificazione anche come i primi del girone Comunque scenderemo in campo totalmente con la seconda squadra Vediamo un po' se almeno in Europa League funziona questa tattica con Sommer Udoji, Viti, Viti, Crenge, Perrone, Matasso, Scott, El Shoravi, Shashua e Romero Occhio il farone e il Shoravi, bellissima la palla dentro Verso Samuel Shashua che non sbaglia e ci porta in vantaggio anche qui in Croazia Ricordo che contro il Rapid Vienna fu sempre lui a sbloccare la sfida Ci pensa lui anche quest'oggi Segna appunto Samuel Shashua su un'ottima imbucata la parte del farone e il Shoravi Occhio ragazzi ancora Shashua fa correre il farone e il Shoravi Provano a ricambiarsi i favori ma prova ad andare dentro il farone e il Shoravi Verso Alex Scott Però non siamo riusciti a segnare qui pure sulla ribattuta C'era Luca che poteva metterla dentro Occhio ragazzi alla risposta dell'Hiduk Sono in aria Palla dietro Attenzione addirittura Fossati Palla per Gercic Il tiro dentro qui ragazzi Ottimo intervento quasi miracoloso da parte di Sommer Bravo Occhio ancora l'Hiduk Maniac Palla per Fossati Ancora Gercic Il tocco dentro verso Liubicic Che si mangia clamorosamente il gol del pareggio Qui siamo stati graziati Ma ragazzi occhio qui Sommer Ancora una volta ci salva E ora stiamo abbastanza subendo Gli offensive dell'Hiduk Bisogna cercare di superare questo momento Per poi ripartire E trovare il gol del raddoppio Non facciamo cavolate ragazzi Dai Ok ragazzi Ma Tazo è un muro Ma sono sempre in avanti Mi sa che devono anche segnare Invece no Perché c'è ancora Sommer Shashua Attenzione che qui prova di inventare Verso il farone Dai faraone No Qui bisognava segnare ragazzi Il 2-0 sarebbe stato Il colpo psicologico Per l'Hiduk Spalato Ma purtroppo il farone qui Ha sbagliato E non di poco E peccato raga Per questa occasione del faraone Termina anche il primo tempo Sempre una zero all'intervallo Per noi Siamo riusciti a resistere Al forcing Del Hiduk Grazie soprattutto All'inquadrato Sommer Però ragazzi Bisogna provare a raddoppiare Così da stare decisamente più tranquilli E attenzione che all'intervallo Lo Sporting è in vantaggio 1-0 Ai danni Del Rapid Vien Occhio Shashua qui Bravissimo Ad aspettare l'inserimento Di Scott Che riesce a segnare Ragazzi Non potete capire Quanto sono contento Quando riesce a segnare Scott Che è un giocatore Che appunto Ha bisogno dei gol Per stare con la freccetta in su Così pure secondo FIFA Sta andando bene È molto importante Diciamo che non mi fa impazzire Ormai questo È un dato di fatto E ancora non è cambiato nulla Però sicuramente Rispetto all'anno scorso È molto più a centro Dell'azione Effettivamente gioca anche Più partite E questi gol Difficilmente li sbaglia Quindi sicuramente È un ottimo sostituto Ecco su questo Non posso lamentarmi Calcio d'angolo per noi Siamo ancora in avanti Subito da ricerca Del terzo gol Che stava per arrivare Vitic Attenzione Tira Tira Vitic Niente da fare Shashua La palla rimane lì E si salva Clamorosamente Laiduc Occhio Shashua Prova a mettersi in proprio Shashua Aspetta L'inserimento del farone Che riesce a vincere il contrasto In aria Calcia Gol mancino E trova il gol Del punto esclamativo 3 a 0 Direi che ci siamo Partita in cassaforte Segna anche Il capitano Della seconda squadra Il farone Stefano Shashua Occhio ragazzi Possiamo ancora avanzare Samo Shashua Adesso Laiduc È completamente scollato Shashua Non sbaglia E trova la doppietta personale 4 a 0 Dai ragazzi Che forse c'è il tempo Pure per fargli portare Il pallone a casa No Qui attenzione Che è successo Qui stranissima cosa Qui Gole veramente assurdo Da parte Laiduc Spalato La prima volta Che vedo Una cosa del genere La prima volta Che subisco Un gol così Qui Viti Stava passando Il pallone Scivolata Pazzesca Con un tempismo Mai visto prima Da parte del giocatore De Laiduc Che se non sbaglio Era proprio fossati E poi L'Ubicic Non può sbagliare Peccato Perché qui Proprio un gol Regalato Ma per quel forcing Che hanno fatto Nel primo tempo Un gol per Laiduc Era anche giusto Siamo onesti Faccio ragazzi Ancora Qui Clamoroso Rischio No ragazzi Così non va bene Ok Il largo vantaggio Ma Occhi aperti E infatti ragazzi Per mantenere un po' L'attenzione alta Direi di far Di far entrare Un po' l'artiglieria pesante In campo Cup Miners Guler E tutto il tiro offensivo Ovvero Nusa Farias E Fatavissaku Oh Ragazzi Facundo Farias Qui è partito Solo lui Facundo Farias L'appoggia dentro Qui Estremamente Generoso Facundo Che regala Il gol del 5-0 A Fatavissaku Cioè ragazzi Che 5-0 Purtroppo è 5-1 Mi sembra di aver detto 5-0 Però dovrebbe finire Proprio così La partita Almeno che Non arrivi Un altro gol Hanno veramente Fischiato la fine Così Spero che fosse fuori gioco Altrimenti è imbarazzante FIFA Comunque Fischio finale Bella vittoria Anche questa qui Una vittoria estremamente netta Devo dire che per il momento In Europa League Ci hanno steso Un bel tappeto rosso 5 gol a partita Perché La prima con lo Sporting Finì 5-1 Stessa cosa Pure questa E la seconda giornata 5-0 A Vienna Quindi raga Perfetti per il momento E ok ragazzi Adesso in campo Contro l'Udinese Addirittura penultimo In classifica Con solamente 4 punti Noi addirittura Siamo attualmente Secondi Addirittura Ve l'avevo detto Che vincere contro il Monza Era importante Nella scorsa puntata Non ho manco controllato La classifica Meglio di noi Sta facendo solamente L'Inter Con addirittura Solamente Zero sconfitte Due pareggi E 6 vittorie Quindi ragazzi Sicuramente Stanno facendo un campionato Eccezionale E noi siamo Giusto giusto lì Che stiamo cercando Di fare lo stesso Comunque andiamo in campo Udinese Genova Ovviamente ragazzi Puntare allo scudetto Mi sembra abbastanza Proibitivo Attualmente Però Come dico sempre All'inizio Più vittorie si fanno Meglio è Perché i finali di stagione Di FIFA Sono sempre Come dire Particolari Quindi ragazzi Andiamo in campo Miglio formazione possibile A 100% Quindi forza Occhio ragazzi Però ovviamente Subito All'Udinese Con Samargi Che riesce a sbloccare La partita Ovviamente ragazzi Quando affronti Le ultime in classifica C'è sempre da soffrire Già abbiamo visto La partita contro il Monzo Nella scorsa puntata Che non è ultima in classifica Ma è una squadra Che sicuramente Non dovrebbe stare Così in alto Come la La mette FIFA La mette FIFA Quindi sicuramente Contro le squadre Torriamente più piccole È sempre Una partitaccia Però oggi Mi aspettavo Non so Una partita un po' Piaggevole Visto che Siamo con la prima squadra Loro sono penultimi E invece no E invece no Ma comunque ragazzi È troppo presto Per parlare Quindi cerchiamo Di reagire subito In usa Vedi l'insegnimento Di Guller Col destro Para subito Il partire Un beam Ecco ragazzi Cap Maners Può avanzare Vedi che c'è solissimo Facundo Col Mancino Che non può sbagliare A botta sicura Trova dopo 10 minuti Gol del pareggio Meno male ragazzi Visto che Se non segni subito Se non le metti A posto subito Queste partite poi Diventano veramente pericolose E qui Farias Che va risultato in faccia Ai tifosi avversari Non è la mia intenzione Chiedo scusa Adesso ragazzi Qui in usa Che cosa ha fatto Bravissimo Qui Occhio Arda Guller E addirittura La ribaltiamo Dopo neanche un quarto d'ora Arda Guller 2-1 Segna Il nostro Magnifico Numero 7 Bene così ragazzi Siamo passati In vantaggio Era quello che sinceramente Mi aspettavo Cioè Io quando gioco in campionato Con la prima squadra Voglio essere quasi convinto Di avere una giornata Tranquilla Quindi speriamo Che accada esattamente Questo oggi Dai ragazzi Che adesso è il tipo di partita Che piace a noi Con l'Udinese Che deve sbilanciarsi Per forza Facundo Faria Non sbaglia Arriva anche subito Il 3-1 Mezz'ora di gioco Si è svegliato Il Genova Abbiamo dato Quella piccola illusione All'Udinese E poi abbiamo Reagito Alla grande 3-1 Primo tempo In cassaforte Non dico partita In cassaforte Ma primo tempo Me lo sento In cassaforte Ma attenzione Qui all'Udinese Che prova però Tornare subito In partita Ma Okoye Ragazzi Ha fatto un miracolo Occhio però Calcio d'angolo Battuto corto Verso De Lofeu Attenzione Occhio Samar Ci c'è ancora Palla dentro Attenzione Qui Fedez È Fedez Ragazzi Comunque Grandissima parata Ancora una volta Di Okoye Occhio ragazzi Mi sembrava fuori gioco Anche abbastanza netto Okoye Okoye Sensazionale Occhio ragazzi Si riparte Facundo Farias Improfondita Verso Fatavis Dai Che l'Udinese Sembra essere tornato In partita Adesso ci voleva Proprio questo gol 4-1 Che dovrebbe Proprio spezzargli Le gambe Visto che Stavano Trovando il gol Del 3-2 Occhio ha fatto Qualche miracolo Giusto un paio E poi Fatavis Trova il gol Del definitivo Forse 4-1 Ok ragazzi Termino anche il primo tempo 4-1 All'intervallo Per noi Primo tempo Sicuramente Maiuscolo Da parte del nostro Genova Che come al solito Soffre Perché Concediamo sempre Troppo Ma quando Koi è in forma Direi che Siamo tranquilli E occhio ragazzi Subito Fatavis Saku È partito forte Fatavu Col mancino Fatavis Saku Trova un kickoff Veramente Delizioso 5-1 Per una volta Una squadra Che è penultima In classifica Effettivamente Si comporta La squadra Penultima In classifica Visto 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 che L'Udinese In difesa È veramente Inquietante Magari Hanno Gli giocatori Forti In attacco Ma in difesa Non difendono Proprio Sinceramente Palla dentro Nusa Trova subito Il gol Del 6-1 Ragazzi Ma che cosa Sta succedendo Ogni tiro E gol Direi che sarà Un secondo tempo Molto lungo Per la povera Udinese Ragazzi Contro piede Poi una parola In avanti Verso Antonio Nusa E un po' Antonio Nusa Sterza Antonio Nusa Vedi ancora Facundo Che prova a piazzarla Ma un benam Para E occhio Ardaguler 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 Bellissima Verso Antonio Nusa Che si mangia Il settimo gol Attenzione Però Qui all'Udinese Che con Beto Riesce a trovare Il gol Della bandiera Del 6-2 Ma ovviamente Esultano come Se fossero Sul 3-0 In fidale di Champions Occhio Antonio Nusa Buon in avanti Verso Facundo Farias Attenzione Che potrebbe arrivare Ancora un gol Buonissima la palla Per Fatavu Che ovviamente Non sbaglia 7-2 E voglio concludere Questa partita Con esattamente Questo punteggio Che è lo stesso punteggio Che abbiamo Subito Contro il Bologna Qualche puntata fa Quindi ragazzi Per far capire A voi E al mondo intero Che FIFA È un gioco Che è molto strano La difficoltà Innanzitutto Non c'entra nulla Perché Con la stessissima difficoltà Con le stesse sliders Abbiamo perso 7-2 Contro il Bologna Adesso stiamo vincendo 7-2 Contro l'Udinese Quindi questo Semplicemente vuol dire Che FIFA Che FIFA Contro il Bologna Contro il Bologna Contro il Bologna Anche in panchina Sono molto stanchi Ma sinceramente Ma sinceramente Non posso fare altro Semplicemente posso mettere Casadei in panchina Gli altri sono tutti stanchi Quindi a sto punto Me li porto stanchi Perché sicuramente Ci serviranno A partita in corsa Quindi ragazzi Venezia Ne ho promosso Sono sedicesimi In classifica Vediamo un po' Che cosa deve succedere Occhio al Venezia Con Aramu Che è anche un ex Occhio Sono in aria Con Garces qui Che non conosco minimamente Ma arriva subito Il grande intervento Di Okoye Il primo della partita Occhio Shashua Provata a Zalla Molto bene Attenzione per il farone Sharawi Occhio a Romero Da quell'altra parte E Sharawi Buonissima dentro Per Luca Lukita Luchino Lui comunque Romero 1-0 Siamo in vantaggio Troviamo addirittura Il gol Grazie A questa sgroppata Del farone Sharawi Attenzione ragazzi Perché Sinceramente Io non mi aspetto Di vincere questa partita Non so perché Ma ho un brutto presentimento Stiamo facendo Non so quante vittorie consecutive Tipo 5-6 Quindi secondo me È dietro l'angolo Il primo inciampo Della stagione Quindi ragazzi Attenzione Cioè comunque Della stagione Del periodo Perché comunque Il primo inciampo C'è già stato E come Per il momento Anche l'unico Contro Il Bologna È in casa Quindi cerchiamo Di continuare Con questo ritmo E sì Siamo primi In classifica Ma non so Se reggeremo Ecco Occhio Perrone Pari in avanti Che rimbalza Molto bene Verso Shashua Attenzione Shashua Shashua Trova qui La gran parata Da parte del portiere Trova soprattutto Luca Romero Che evita il calcio D'angolo Attenzione Palla dentro Mataso Che non passa di prima Occhio ragazzi Shashua Aspetta l'inserimento Di Scott Che arriva puntuale Attenzione Scott 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 Appoggiala Appoggiala Per il faro Con il sciarabico Non può sbagliare 2-0 Arriva proprio allo scadere Del primo tempo L'importantissimo E fondamentale Gol del raddoppio Che sicuramente Ci farà giocare Una ripresa Molto più tranquilla E speriamo Rilassante E infatti ragazzi Arriva subito Il fissio dell'arbitro 2-0 All'intervallo Per noi Nonostante qualche Piccolo brivido Stiamo giocando Decisamente bene Stiamo giocando Da squadra Superiore Nonostante La seconda Formazione In campo E questo Mi rende Veramente orgoglioso Però attenzione Perché dissi Esattamente La stessa cosa Nella partita Contro il Parma Vista Un po' di tempo fa Cioè qualche giorno fa E Finì in un modo incredibile Quindi facciamo attenzione E soprattutto Occhi aperti E infatti ragazzi Ecco qua Neanche il tempo Di dirlo Arriva subito Il gol Del Venezia Proprio con Sto Garsese Che continua A dire Chi cavolo è Comunque Spero non sia Un altro giocatore Inventato dal gioco Tipo Sajilovic Perché altrimenti Abbiamo perso Qui Vitic Ovviamente Se lo perde Prova a recuperare Ma ormai È troppo tardi Occhio ragazzi Ancora 2-2 Ecco qua Come da copione Preciso Perfetto Esattamente Come successe Contro il Parma Doppietta Poi tra l'altro Di Stotizio Che appena finisce Questa partita Me lo vado a comprare Non solo vedo chi è Ma me lo vado a comprare Immediatamente Proprio attenzione Che questo qui Cioè ragazzi È un fenomeno Tirata a qualsiasi posizione Che cavolo sei Ibrahimovic Occhio a calcio d'angolo Adesso solo Venezia In campo Che ci ha recuperati Nel giro Proprio di Neanche un quarto d'ora Anzi Neanche 10 minuti Sono fortissimi Dobbiamo ancora fare qualcosa In questo secondo tempo Ci prova adesso Il solito Samuel Shashua Che è partito in solitaria Alla grande Samuel Samuel Shashua Trova il gol Del 3-2 Che ci riporta In vantaggio Esattamente Come successe Contro il Parma Adesso sinceramente Mi aspetto L'immediato pareggio Del Venezia Ormai sto gioco Lo conosciamo troppo bene Eccolo qui Eccolo qui Eccolo qui La palla che sembrava fuori Eccolo qui Arriva il gol di Cernigoi Io penso che Diciamo Originalmente La palla doveva uscire fuori Però poi giustamente FIFA Si è ricordato Che ovviamente Il Venezia Deve segnare Quindi La palla che ben porta Qui Occhio ovviamente Sbaglia Ma Sicuramente Non è colpa sua Ragazzi Questa partita Finirà 5-4 5-4 Ma non so se per noi O per loro Ma finirà 5-4 Occhio ragazzi Qui passava per fare Il gol del secolo Che faceva Veramente venire giù Lo stadio Comunque ragazzi Facciamo qualche cambio Ma come abbiamo visto Inizio partita Chi cavolo metto A sto punto Preferisco Soffrire fino all'ultimo Con questi 11 qua E vedere un po' FIFA Cosa è in serbo Per noi Occhio ragazzi Eccolo qui Okoye Che stranamente Riesce a parare Clamoroso Raga Forse Qualcosa sta cambiando Forse vogliono dirci Che si può vincere Questa partita Cerchiamo di ripartire In contropiede Di chiuderla Vi prego Una volta per tutte Cos'è sto passaggio A 2 all'ora Per i giocatori Che non dico neanche io Madonna ragazzi Com'è palestra Dai ragazzi Che è finita Mancano Meno di 30 secondi Finisce qua La partita Fatica assurda Per battere Questo Venezia Pure questa qui Una partita Già vinta Avevo detto 5 a 4 E finita 4 a 3 Tutto sommato Siamo lì Alla fine Le dinamiche Sono identiche Ormai ragazzi Pure le partite Sono standard Devono andare Secondo Dei determinati Corsi storici Eccetera eccetera Ovviamente ragazzi Questa partita Rende sempre più giustizia Per il discorso Fatto Fatto prima Con l'Udinese Ovviamente Stessa difficoltà Della partita precedente Ed è successo Quello che è successo Abbiamo vinto Perché era il Venezia Ormai ragazzi Abbiamo Abbiamo sinceramente La squadra forte Che queste partite Le riesce comunque In cui a vincere Però ecco Per esempio Se hai una squadra Come il Bologno Una squadra Da metà classifica Questa qua La perdevi Ma proprio Sicuramente È come se non bastasse La prossima partita Contro il Cagliari Ragazzi Chi mi conosce E chi mi segue Da più tempo Sa che col Cagliari Ha un rapporto Tremendo Però sono Terzo ultimo In classifica Sono neopromossi Pure loro Quindi teoricamente Dovrebbe essere Una partita Per noi Vantaggiosa Ma sicuramente Non lo sarà Comunque Attenzione Perché Forse per la differenza Rete L'Inter è prima Comunque ragazzi Ripeto Che è troppo presto Guardare la classifica È ancora appunto Troppo Troppo presto Comunque Prossima puntata Inizieremo Il mese Di novembre Affrontando Il Cagliari Appunto L'Aidux Palato E lo Spezia E quindi ragazzi Direi che per oggi Possiamo fermarci qua Un'altra puntata Abbastanza frizzantina Come al solito Vi invito a lasciare un mi piace Ad iscrivervi al canale A seguirmi sulla pagina Instagram E a sostenere Il canale Tramito una donazione Noi ci vediamo Alla prossima E ciao a tutti